La pattumiera è sempre pulita e asciutta con i sacchetti compostabili Perfect Fit di Brabanzia. Sono biodegradabili al 100% e sono progettati appositamente per tutti i rifiuti organici. Possono essere gettati insieme al compost, poiché sono realizzati con un materiale compostabile certificato. I sacchetti sono realizzati appositamente per le pattumiere Brabanzia e pertanto sono invisibili quando il coperchio è chiuso. I sacchetti compostabili Perfect Fit sono disponibili in varie misure. Grazie al pratico codice a colori è facile trovare il sacchetto giusto per la tua pattumiera. È sufficiente controllare il codice a colori all'interno della pattumiera Brabanzia per sapere subito qual è il sacchetto Perfect Fit di Brabanzia. La misura è sempre quella giusta. I sacchetti devono essere sostituiti dopo un massimo di 10 giorni e non sono adatti per i rifiuti caldi, come le bustine del tè. Se cercate un modo più ecologico di gestire i vostri rifiuti, i sacchetti compostabili Perfect Fit di Brabanzia sono un ottimo inizio.